L'hip hop mi ha rubato l'anima perché non è solo un ballo, non è soltanto mettere dei bassi in una coreografia, è proprio uno stile di vita ed è proprio una cultura. Ho sempre ballato da quando ho praticamente sei anni, ho fatto danza moderna, danza classica, latinoamericano, mi sono buttata in vari stili di ballo. Ballando hip hop ho iniziato anche ad esprimere i miei strafi d'animo, le mie paure. Ho fatto del hip hop un po' il mio modo di essere, il mio modo di vestirmi, il mio modo di parlare, tutto quanto quello che sono diventata adesso. Ho cominciato anche ad insegnare ed è stata una cosa meravigliosa perché sono entrata in contatto direttamente con un nuovo modo di esprimere. Esprimere attraverso gli altri e cercare di portare agli altri quello che provavo io, quello che sentivo io e quello che mi andava di insegnare. Ho cominciato anche ad insegnare. Ho cominciato anche ad insegnare. Io sono Paola Lanza e insegno hip hop. Ho cominciato anche ad insegnare. 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 Ho cominciato anche ad insegnare.